Bene, prima di iniziare con alcuni esercizi sui Particle System, voglio mostrarvi due tools che potranno risultare utili durante il nostro lavoro. All'interno di 3TX Max, sotto la voce Compound Object, troviamo Blob Mesh e Mesher. Il Blob Mesh ci permette di simulare l'effetto di Meta Particles anche con emettitori che non hanno tale caratteristica. Ad esempio, un Super Spray ha già tale caratteristica all'interno dei suoi parametri, fatti Particle Type Meta Particles, al contrario di un emettitore Spray, il quale è molto povero di parametri e non ha sicuramente la caratteristica desiderata. Per poter lavorare con tale tipologia di Particles ci basterà creare un Blob Mesh, e da segnare l'emettitore desiderato. Per poi ovviamente regolare i parametri per la creazione di una Mesh più dettagliata. Il Mesh ci consentirà di trasformare in geometria le Particles che generiamo con l'emettitore. Oltre a svariati utilizzi che vedremo prossimamente, può essere molto utile creare più mesher, variando il tempo di generazione, quindi delle copie degli emettitori, ma a tempi di emissione sfalsati, come si vede nel nostro esempio.